ciao benvenuto in questa nuova puntata di 10 pagine per oggi leggeremo insieme 10 pagine del visconte dimezzato di italo calvino il visconte dimezzato di calvino insieme al barone rampante al cavaliere inesistente compone la trilogia i nostri antenati in questo romanzo calvino tratta il tema molto importante del dualismo che alberga dentro ogni uomo le due parti che compongono ogni essere umano in questo caso il bene il male la vicenda si apre con il visconte medardo di terralba che arriva sui campi di battaglia in boemia viene istruito dal suo scudiero su quello che è la vita all'interno del campo di battaglia la prima volta che si trova di fronte ai nemici medardo si catapulta di fronte a un cannone e una palla di cannone lo spacca in due lo spezza letteralmente a metà la metà buona la metà cattiva e ovviamente quale sarà la metà che verrà ritrovata esatto la metà cattiva che nel momento in cui lui rientrerà in patria darà un sacco di problemi a tutte le persone che avranno a che fare con lui e no basta basta ho già detto troppo se ancora non hai letto il visconte dimezzato non ti preoccupare ascolta queste dieci pagine e se ti avrà attirato potrai trovare in descrizione il link che ti rimanderà ad amazon dove potrai acquistare il libro prima di andare alla lettura se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale trovi il pulsante qua sotto mi raccomando iscriviti perché così non ti perderai tutte le nuove letture che usciranno ogni settimana e anche altre piccole chicche che troverai all'interno del canale bene siamo pronti andiamo con le prime dieci pagine del visconte dimezzato sigla dieci pagine per è aprire la porta che conduce a un nuovo racconto è come i libri ci catturano è prendersi cura di se stessi è una forma di meditazione che rallenta il ritmo dei nostri pensieri è leggere le prime dieci pagine di un libro il biglietto da visita di ogni buona storia c'era una guerra contro i turchi il visconte medardo di terralba mio zio cavalcava per la pianura di boemia diretto all'accampamento dei cristiani lo seguiva uno scudiero a nome curzio le cicogne volavano basse in bianchi stormi traversando l'aria opaca e ferma perché tante cicogne chiese medardo a curzio dove volano mio zio era nuovo arrivato essendosi arruolato appena allora per compiacere certi duchi nostri vicini impegnati in quella guerra si era munito di un cavallo ed uno scudiero all'ultimo castello in mano cristiana e andava a presentarsi al quartiere imperiale volano ai campi di battaglia disse lo scudiero tetro ci accompagneranno per tutta la strada il visconte medardo aveva appreso che in quei paesi il volo delle cicogne è segno di fortuna e voleva mostrarsi lieto di vederle ma si sentiva a suo malgrado inquieto cosa mai può richiamare i trampolieri sui campi di battaglia curzio chiese anche essi mangiano carne umana ormai rispose lo scudiero da quando la carestia ha inaridito le campagne e la siccità ha seccato i fiumi dove ci sono cadaveri le cicogne i fenicotteri e le gru hanno sostituito i corvi e gli avvoltoi mio zio era allora nella prima giovinezza l'età in cui i sentimenti stanno tutti in uno slancio confuso non distinti ancora in bene e in male l'età in cui ogni nuova esperienza anche macabra e inumana è tutta trepida e calda d'amore per la vita e i corvi e gli avvoltoi chiese e gli altri uccelli rapaci dove sono andati era pallido ma i suoi occhi scintillavano lo scudiero era un soldato nerastro baffuto che non alzava mai lo sguardo a furia di mangiare i morti di peste la peste ha preso anche loro e indicò con la lancia certi neri cespugli che a uno sguardo più attento si rivelavano non di frasche ma di penne e stecchite zampe di rapace ecco che non si sa chi sia morto prima se l'uccello o l'uomo e chi si sia buttato sull'altro per ranarlo disse curzio per sfuggire alla peste che sterminava le popolazioni famiglie intere s'erano incamminate per le campagne e l'agonia le aveva colte lì in groppi di carcasse sparsi per la brulla pianura si vedevano corpi d'uomo e donna nudi sfigurati dai buboni e cosa da principio inspiegabile pennuti come se da quelle loro macilente braccia e costole fossero cresciute nere penne e ali erano le carogne d'avvoltoi mischiate ai loro resti già il terreno si andava disseminando dei segni d'avvenute battaglie l'andatura sarà fatta più lenta perché i due cavalli si impuntavano in scarti e impennate cosa prende ai nostri cavalli chiese medardo allo scudiero signore lui rispose niente spiace ai cavalli quanto l'odore delle proprie budella la fascia di pianura che stavano traversando era infatti cosparsa di carogne equine talune supine con gli zoccoli rivolti al cielo altre prone col muso infossato nella terra perché tanti cavalli caduti in questo punto curzio chiese medardo quando il cavallo sente d'essere sventrato spiego curzio cerca di trattenere le sue viscere alcuni posano la pancia a terra altri si rovesciano sul dorso per non farle penzolare ma la morte non tarda a coglierli ugualmente dunque sono soprattutto i cavalli a morire in questa guerra le scimitarre turche sembrano fatte apposta per fendere ad un colpo i loro ventri più avanti vedrai i corpi degli uomini prima tocca ai cavalli e dopo ai cavalieri ma ecco il campo è là ai margini dell'orizzonte salzavano i pinnacoli delle tende più alte e gli standardi dell'esercito imperiale e il fumo galoppando avanti videro che i caduti dell'ultima battaglia erano stati quasi tutti rimossi e seppelliti solo se ne scopriva qualche sparso membro specialmente dita posato sulle stoppie ogni tanto c'è un dito che ci indica la strada disse mio zio medardo che vuol dire dio li perdoni i vivi mozzano le dita ai morti per portarvi agli sentinelli chi va là disse una sentinella dal cappotto ricoperto di muffe e muschi come la corteccia ad un albero esposto a tramontana viva la sacra corona imperiale gridò curzio e che il sultano muoia replicò la sentinella ma vi prego arrivati al comando dite loro quando si decidono a mandarmi il cambio che ormai metto radici i cavalli ora correvano per sfuggire alla nuvola di mosche che circondava il campo ronzando sulle montagne d'escrementi di molti valorosi osservò curzio lo sterco di eri ancora in terra e loro sono già in cielo e si segnò all'ingresso dell'accampamento fiancheggiarono una fila di baldacchini sotto i quali donne ricce e spesse con lunghe vesti di broccato e i seni nudi li accolsero con urla e risatacce sono i padiglioni delle cortigiane disse curzio nessun altro esercito ne ha di così belle mio zio già cavalcava col viso voltato indietro a guardar loro attento signore aggiunse lo scudiero sono tanto sozze impestate che non le vorrebbero neppure i turchi come preda ad un saccheggio ormai non son più soltanto cariche di piatto le cimici e zecche ma indosso a loro fanno nido gli scorpioni e i ramarri passarono davanti alle batterie da campo a sera gli artiglieri facevano cuocere il loro rancio d'acqua e rape sul bronzo delle spingarde e dei cannoni arroventato dal gran sparare della giornata arrivavano dei carri pieni di terra e gli artiglieri la passavano al setaccio già scarseggia la polvere da sparo spiegò curzio ma la terra dove si sono svolte le battaglie ne è tanto impregnata che volendo si può recuperare qualche carica dopo venivano gli stalli della cavalleria dove tra le mosche i veterinari sempre all'opera rabberciavano la pelle dei quadrupe di concuciture cinti ed empiastri di catrame bollente tutti nitrendo e scalciando anche i dottori gli attendamenti delle fanterie seguitavano poi per un gran tratto era il tramonto e davanti a ogni tenda i soldati erano seduti coi piedi scalzi immersi in tinozze d'acqua tiepida soliti come erano a improvvisi allarmi notte e giorno anche nell'ora del pediluvio tenevano l'elmo in testa e la picca stretta in pugno in tende più alte e drappeggiate a chiosco gli ufficiali si incipriavano le ascelle e si facevano vento con ventagli di pizzo non lo fanno per effemminatezza disse curzio anzi vogliono mostrare di trovarsi completamente a loro agio nelle asprezze della vita militare il visconte di terralba fu subito introdotto alla presenza dell'imperatore nel suo padiglione tutto a razzi e trofei il sovrano studiava sulle carte geografiche i piani di future battaglie i tavoli erano ingombili di carte srotolate e l'imperatore vi piantava degli spilli traendoli da un cuscinetto punta spilli che uno dei marescialli gli porgeva le carte erano ormai tanto cariche di spilli che non ci si capiva più niente e per leggervi qualcosa dovevano togliere gli spilli e poi rimetterceli in questo togli e metti per avere libere le mani sia l'imperatore che i marescialli tenevano gli spilli tra le labbra e potevano parlare solo a mugolii alla vista del giovane che si inchinava davanti a lui il sovrano emise un mugolio interrogativo e si cavò tosto gli spilli dalla bocca un cavaliere appena giunto dall'italia maestà lo presentarono il visconte di terralba d'una delle più nobili famiglie del genovesato sia nominato subito tenente mio zio batte gli speroni scattando sull'attenti mentre l'imperatore faceva un ampio gesto regale e tutte le carte geografiche s'avvolgevano su se stesse e rotolavano giù quella notte benché stanco medardo tardò a dormire camminava avanti e indietro vicino alla sua tenda e sentiva i richiami delle sentinelle i cavalli nitrire e il rotto parlar nel sonno di qualche soldato guardava in cielo le stelle di boemia pensava al nuovo grado alla battaglia dell'indomani e alla patria lontana al suo fruscio di canne nei torrenti in cuore non aveva né nostalgia né dubbio né apprensione ancora per lui le cose erano intere e indiscutibili e tale era lui stesso se avesse potuto prevedere la terribile sorte che l'attendeva forse avrebbe trovato anch'essa naturale e compiuta pur in tutto il suo dolore tendeva lo sguardo al margine dell'orizzonte notturno dove sapeva essere il campo dei nemici e a braccia concerte si stringeva con le mani le spalle contento ad aver certezza insieme di realtà lontane e diverse e della propria presenza in mezzo a esse sentiva il sangue di quella guerra crudele sparso per mille rivi sulla terra giungere fino a lui e se ne lasciava lambire senza provare accanimento né pietà la battaglia cominciò puntualmente alle 10 del mattino dall'alto della sella il luogotenente medardo contemplava l'ampiezza dello schieramento cristiano pronto per l'attacco e protendeva al viso al vento di boemia che sollevava odor di pula come da un'aia polverosa no non si volti indietro signore esclamò curzio che col grado di sergente era al suo fianco e per giustificare la frase perentoria aggiunse piano dicono porti male prima del combattimento in realtà non voleva che il visconte si scorasse avvedendosi che l'esercito cristiano consisteva quasi soltanto in quella fila schierata e che le forze di rincalzo erano appena qualche squadra di fanti male in gamba ma mio zio guardava lontano alla nuvola che si avvicinava all'orizzonte e pensava ecco quella nuvola è i turchi i veri turchi e questi al mio fianco che sputano tabacco sono i veterani della cristianità e questa tromba che ora suona è l'attacco il primo attacco della mia vita e questo boato e scuotimento il bolide che si insacca in terra guardato con pigra noia dai veterani e dai cavalli è una palla di cannone la prima palla nemica che io incontro così non venga il giorno in cui dovrò dire e questa è l'ultima a spada sguainata si trovò a galoppare per la piana gli occhi allo stendardo imperiale che spariva e riappariva tra il fumo mentre le cannonate amiche ruotavano nel cielo sopra il suo capo e le nemiche già aprivano brecce nella fronte cristiana e improvvisi ombrelli di terriccio pensava vedrò i turchi vedrò i turchi nulla piace agli uomini quanto avere dei nemici e poi vedere se sono proprio come ci si immagina li vide i turchi ne arrivavano due proprio di lì coi cavalli intabarrati il piccolo scudo tondo di cuoio la vestia a righe nere e zafferano e il turbante la faccia color ocra e i baffi come uno che a terralba era chiamato michel turco uno dei due turchi morì e l'altro uccise un altro ma ne stavano arrivando chissà quanti e c'era il combattimento all'arma bianca visti due turchi era come averli visti tutti erano militari pure loro e tutte quelle robe erano dotazione dell'esercito le facce erano cotte e cocciute come i contadini medardo per quel che era a vederli ormai li aveva visti poteva tornarsene da noi a terralba in tempo per il passo delle quaglie invece aveva fatto la ferma per la guerra così correva scansando i colpi delle scimitarre finché non trovò un turco basso a piedi e l'ammazzò visto come si faceva andò a cercarne uno alto a cavallo e fece male perché erano i piccoli dannosi andavano fin sotto i cavalli con quelle scimitarre e li squartavano il cavallo di medardo si fermò a gambe larghe che fai disse il visconte curzio sopraggiunse indicando in basso guardi un po lì aveva tutte le coratelle di già in terra il povero animale guardò in su al padrone poi abbassò il capo come volesse brucare gli intestini ma era solo uno sfoggio d'eroismo svenne e poi morì medardo di terralba era piedato prenda il mio cavallo tenente disse curzio ma non riuscì a fermarlo perché cadde di sella ferito da una freccia turca e il cavallo corse via curzio gridò il visconte e s'accostò allo scudiero che gemeva in terra non pensi a me signore fece lo scudiero speriamo solo che all'ospedale ci sia ancora della grappa ne tocca una scodella ogni ferito mio zio medardo si gettò nella mischia le sorti della battaglia erano incerte in quella confusione pareva che a vincere fossero i cristiani di certo avevano rotto lo schieramento turco e ha girato certe posizioni mio zio con altri valorosi si era spinto fin sotto le batterie nemiche e i turchi le spostavano per tenere i cristiani sotto il fuoco due artiglieri turchi facevano girare un cannone a ruote lenti come erano barbuti intabarrati fino ai piedi sembravano due astronomi mio zio disse adesso arrivo lì e li aggiusto io entusiasta e inesperto non sapeva che ai cannoni ci si avvicina solo di fianco o dalla parte della culatta lui saltò di fronte alla bocca da fuoco a spada sguainata e pensava di fare paura coi due astronomi invece gli spararono una cannonata in pieno petto medardo di terralba saltò in aria queste erano le prime dieci pagine del visconte di mezzato di italo calvino se ti è piaciuto questo video mi raccomando fammelo sapere nei commenti qui sotto ovviamente puoi usare i commenti anche per scrivermi se c'è un libro che ti piacerebbe particolarmente che io leggessi in una delle prossime puntate e se proprio proprio questo video ti è piaciuto tanto lasciami anche un like bene per questa puntata di dieci pagine per è tutto mi raccomando se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale il pulsante lo trovi sempre qui in basso se ti iscriverai al canale ora non ti perderai tutti i nuovi video e le nuove letture dei libri che troverai ogni settimana su questo canale ci vediamo nel prossimo racconto